In Val Malencu, siamo in Valtellina, c'è un paese che si chiama Spriana, è il più piccolo comune italiano ad avere un ufficio postale, vitale per i cittadini. Sono qui isolati in un territorio non facilmente raggiungibile e quindi per loro l'ufficio postale è un punto di riferimento per qualsiasi problema e per qualsiasi situazione. E visto che da queste parti la coda allo sportello è cosa assai rara, in tanti vengono qui dai comuni vicini per sbrigare pratiche e servizi. Vengono a spedire i pacchi che è un'operazione che richiede un po' più di tempo o altri se hanno delle scadenze da rispettare vengono in questo ufficio postale. Spriana conta 84 abitanti. Lui, Rinaldo, quasi 83 anni, è il più anziano. Come si vive qui a Spriana? Benone, benissimo. Come si svolge la sua giornata tipo? Ma vado un po' fuori per la campagna. A me piace andare fuori anche per la campagna, andare a cercare legna. Un momento fa sono stato là nell'orto qui di fronte, ho portato le piantine, i cachi, perché vengono anche i cachi, malgrado che sia su alto. Perché si è spopolata questa cittadina? Le motivazioni sono principalmente due. Una è la frana cosiddetta risperiana che gravita comunque non sull'abitato ma sul sondro, ma su questa frana c'erano le frazioni più popolose del paese. Secondo luogo un'altra motivazione. Il nostro paese non ha purtroppo possibilità di avere lavoro sia nel turismo, sia anche in altre manufatturiero o altre industrie. Quindi la maggior parte delle persone, la mia stessa famiglia, ha dovuto andare a sondro per poter poi intraprendere un'altra via lavorativa. I servizi fondamentali non mancano. Oltre all'ufficio postale c'è un medico che viene due volte a settimana. Non c'è più il parroco, ma i sacerdoti della valle sono qui ogni domenica per celebrare messa in questa chiesetta. C'è poi un ristorante e una salumeria. Ogni giorno, in media, quanti clienti vengono? Una ventina. È diventato anche un po' il confidente degli abitanti di Spriano? Sì, sì, sì. Perché sono 70 anni che spivo qua. Si vive serenamente, voglio dire, proprio una vita dove sono tutti amici, tutti si danno una mano, tutti si aiutano. Mentre i lati negativi, se vogliamo chiamarli così, possono essere quelli che la scarsità della popolazione impedisce lo sviluppo di attività. Un paese come se fosse negli anni, negli anni, negli primi anni del Novecento, rimasto un po' intatto nelle sue caratteristiche di paese proprio vecchio di montagna. Con un nulla siamo sempre contenti e allegri. Basta che ci arriva un bel po' di sole e caldo e siamo sempre contenti. Ma secondo lei da qui a qualche anno questo comune rischia di sparire? Purtroppo questo rischio c'è perché insediamenti, nuove abitazioni, giovani ce ne sono pochi perché la gioventù va dove trova lavoro, dove trova anche possibilità di svariare la propria vita. Grazie.